Non sarà un'inchiesta rapida, né tecnicamente semplice, quella sul presunto mercato dei voti e dei rappresentanti di lista in Puglia. Il caso, sollevato dal servizio del TgNorba, sarà setacciato anche dopo il voto del 31 maggio, come riferiscono ambienti giudiziari. L'obiettivo è cercare riscontri sul risvolto penale, il voto di scambio alla base delle segnalazioni su alcuni candidati in corsa. Intanto la politica si indigna, a partire da Emiliano, aspirante governatore del centrosinistra, che prende le distanze dai candidati del suo schieramento che ingaggerebbero a pagamento i rappresentanti di lista. Non posso cacciarli, afferma, è una porcheria largamente abusata in passato, ma se non la smettono e do le prove, farà i nomi e chiederò di non votarli. Emiliano annuncia pure di voler modificare la legge elettorale col divieto di ingaggiare in futuro i rilevatori nei seggi a pagamento e multe salate per i trasgressori. Il senatore Palese da Forza Italia, invece, apprezza le coraggiose inchieste giornalistiche e chiede un controllo massiccio nei seggi da parte di forze dell'ordine e, se occorre, sostiene dall'esercito. Un appello che punta a garantire la correttezza e la legittimità delle elezioni regionali, ma soprattutto per evitare che i cittadini, sempre più nauseati, disertino in massa. Agli elettori si rivolge pure il presidente del Consiglio in trona, dato che i partiti sono in affanno, sostiene, siano i cittadini a cacciare i mercanti dal tempio.